Muore per andare a gettare la spazzatura. È davvero una tragedia quella che si è verificata nella mattinata di oggi a Termoli sotto un complesso residenziale vicino via Corsica quando un uomo di 79 anni, in seguito ad una caduta accidentale, ha battuto violentemente la testa ed è morto sul colpo. L'anziano era uscito di casa intorno alle 8 per gettare la spazzatura. A dare l'allarme un suo vicino di casa che si era accorto del corpo a terra non troppo distante dai cassonetti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma per l'anziano non c'era più nulla da fare. Così gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sul luogo dell'incidente è arrivata anche la polizia di Termoli per effettuare gli accertamenti del caso. La tragedia ha scosso tutto il vicinato che conosceva bene l'anziano che viveva insieme alla moglie all'interno della palazzina. La salma del 79enne è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale del Santimoteo a disposizione delle autorità inquirenti.